Era marzo quando abbiamo lanciato tramite la nostra emittente televisiva l'appello per la raccolta fondi, un aiuto per Maurizio Coluccio, un sostegno per le cure del cittadino di Praia Mare affetto dalla rara sindrome di Kogan che colpisce il sistema venoso. Ebbene quel primo appello lanciato dall'associazione Teniamoci per Mano non è caduto nel vuoto ma non ha fatto neanche raggiungere il traguardo dei 23 mila euro, soldi che servono per pagare le cure di Maurizio e il suo soggiorno in Messico. Non abbiamo tempo, l'appello deve essere forte perché non abbiamo più tempo, il 14 luglio c'è una terapia prenotata, Maurizio deve partire, deve partire ovviamente nei giorni che precedono questa data, quindi dobbiamo veramente adesso fare una corsa contro il tempo. Ci rivolgiamo alle associazioni e l'appello alle associazioni è stato fatto peraltro sulla stampa dal centro di volontà solidale, quindi in maniera assolutamente ufficiale, aspettiamo le associazioni del territorio ma velocemente. E allora ecco come e dove donare? Si può donare, noi abbiamo detto ripetutamente anche su Facebook che è la nostra pagina ufficiale, c'è un conto corrente dedicato, attraverso un bonifico si può fare la propria donazione, però basta andare in banca per la gente del territorio, è un normalissimo versamento senza alcun costo, perché ripeto è un conto dedicato, un aiuto per Maurizio, in banca ci sostengono quindi sanno bene come muoversi. Se qualcuno non vuole andare in banca a questo punto, visti i tempi che vengano in sede da noi a Tortora, Marina, via Sirimarco, noi poi consegniamo la ricevuta di versamento e andiamo noi per loro, ma dobbiamo raggiungere questa cifra velocemente. L'associazione Teniamoci per Mano ha voluto ringraziare i tanti che hanno risposto al primo appello, tra questi anche il sindaco di Arezzani, in provincia dell'Aquila, Giovanni Di Pangrazio. Moltissime persone si sono sensibilizzate, noi abbiamo avuto versamenti da gente comune, gente umile che probabilmente si è sacrificata per sostenere questo progetto di vita, perché questo è un progetto di vita. Però non ci siamo, non ci siamo ancora, dobbiamo raggiungere la cifra di 23 mila euro, siamo intorno ai 10 mila euro perché abbiamo pubblicato sulla pagina la cifra esatta, ora oggi ci sono dei nuovi versamenti da fare quindi abbiamo un attimo da rifare i conti, ma siamo a metà percorso. Le parrocchie ci sono state, questo ci tocca dire, Don Franco Liporace e Don Marco ci hanno sostenuto, serve ancora però il loro aiuto, ora parleremo ancora con loro. Le istituzioni forse un po' distratte dalle problematiche sono un po' assenti e dobbiamo marcare questa cosa. Grazie.